vanno sopra ah il ghiaccio quanto godo ok mi dai la gemmina? no grazie signore guarda 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 quanto fa veloce il medium volt guarda che clown di merda dio che odio guardalo 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 come fa in un secondo non può più fare in teoria mamma mia la gente quando mi fa sul cazzo c'è l'ombrello perché dell'ombrella in realtà c'è l'ombrello e cade giù e plana in realtà c'è la signora è bravo poliziotto c'è la signora è il clown ha fatto un ferma immagine coglione ma era già uscito ma che cazzo vuol dire? dio pandoro anche addirittura mamma mia non è che c'ho una voce così impotente impotente stavo per dire impotente ma come puoi avere un timing così perfetto ho sprecato tantissime munizioni ma avessi mutato il coltello no 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 non era un coltello dov'è? qua parco 2 ma ha distrutto victor ma c'è morta mali oh oh victor victor sei ingombrante cazzo manco bubi parco 2 ma guardalo ma parco 2 ma ti rivedi dal cazzo victor può essere no no backseat esatto palesemente di parte oh porco 2 salve ragazzi scusatemi don't mind me stavo guardando la chat allora non vale mi ha ucciso da super mario ma che cazzo sei fottuto ah ma c'è entrambe le teste c'è anche la testa di berkin ah si io amo la banana non tenendo altro ovviamente nice zombie no no tu ti devi far rittare dallo zombie zombie ma guarda ma gli corre dietro e non lo caga di striscio ma come fa a essere così stupido zombie abbiamo abbiamo fatto tutto giusto allora adesso mi tilto eh se non c'è tutto fatto se non è tutto blooming cazzo fuck no no questo è più un tiro di merda no non ci vai dietro dietro a fanculo dici tanto abbiamo tutta la serata oh let's go no oh oh chiappette it's chiappette time eee ecco due qua c'è no l'albero mi sono incastrato nell'albero l'avrei hittata malissimo fuck ci sono tutti questi alberelli di merda oh porco due scopriamo locemente porco due mi sono dimenticato non lo scopriamo let's go ah ma lui può scendere a scale interessante il procedimento e le tieni in cantina le bamboline sì le bamboline le tieni in cantina va bene ragazzi club bamboline welcome to the dark web mi prego fate una clip qualche beep fate una clip fate una clip